Salve, io sono Marco Cavallo e con questo video vorrei rivolgermi ai titolari di azienda, imprenditori, artigiani, liberi, professionisti, dando loro la possibilità di scoprire mondi veramente grandi, quindi di rivolgersi a paesi esteri per esportare le proprie merci, i propri prodotti, il proprio know-how, i propri servizi. Ora è possibile a costi veramente veramente bassi, totalmente detraibili, possono essere anche finanziati da alcune associazioni di categoria, ci si può rivolgere, più che rivolgere, ci si può far vedere, quindi avere grande visibilità all'estero. Parlo di paesi come il Brasile, come la Russia, come la Cina, come l'India e il Sudafrica. Il Made in Italy in quei paesi lì è molto molto forte, è molto 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 richiesto. Quindi perché farsi sfuggire un'opportunità così grande? È molto semplice, esiste una piattaforma web residente in tutti i paesi che dà la possibilità alle aziende italiane di farsi vedere in questi paesi, quindi fare business in questi paesi, esportare le proprie merci, esportare il proprio know-how, esportare la propria esperienza. In Italia, sappiamo tutti, è tutto un po' più complicato in questi anni riuscire a fare business e allora perché non andare in questi paesi per aumentare i propri clienti, per aumentare i propri fatturati? Ora fare business con l'estero è davvero davvero semplice. Se vuoi sapere come fare, metti il tuo nome qui sotto nel form, la tua migliore mail e cercherò di spiegartelo nella maniera più semplice possibile perché così si tratta. Ok? Ci vediamo di là, metti il tuo nome e la tua mail e ciao e buon lavoro. Ciao!